Buongiorno e benvenuti a questo nuovo caso clinico che come dice il titolo è di semplice e stringente attualità. Semplice perché riguarda un caso molto lineare di un paziente che è giunto alla nostra osservazione sul finire dell'estate scorsa, un maschio di 64 anni senza come potete vedere problematiche di salute particolari, è un ex fumatore, un cosiddetto bevitore sociale, non disdegna il consumo di alcolici, un sovrappeso marcato al limite con l'obesità e un'anamnesi patologica remota sostanzialmente muta tanto che non era in corso nessuna terapia cronica. La foto serve per rendere ragione dell'originalità del soggetto che era un amante della chitarra e in procinto peraltro di fare una mini tournée con amici in Ucraina. La problematica con cui si è presentato sostanzialmente riguarda una sindrome febbrile con un quadro a specifico associato di malessere e astenia. Vi è un primo accesso al PS competente per iperpiresia senza sintomi e danno d'organo per cui la dimissione è pressoché immediata, poi dopo 24 ore il paziente ritorna con un quadro più accentuato caratterizzato sostanzialmente da dispnea, polipnea, da stato confusionale lieve, in assenza comunque di deficit neurologici grossolani, dalla presenza di una modesta disuria e soprattutto da un rialzo termico continuo preceduto da brividi e tremori. Possiamo vedere che dal punto di vista strumentale iniziale per quanto riguarda l'elettrocardiogramma non vi sono condizioni particolari, non vi è neanche una tachicardia riflessa e dal punto di vista ecografico non vi sono segni grossolani di danno d'organo. Agli esami non vi sono alterazioni significative, in particolare non vi sono alterazioni della funzionalità epatica e renale, non vi sono disionie rilevanti e a distanza di diverse ore dall'esorio della sindrome febbrile vi è un debolissimo, per non dire assente, movimento dei biomarkers di infezione e infiammazione. Qualcosa di più ci dice sicuramente la lastra, che per quanto non eseguita in condizioni ottimali e probabilmente sovraesposta, mostra, come recita il referto, un incremento della componente broncovascolare interstiziale con caratteri quasi a ground glass, anche se ground glass è un termine applicabile prettamente alle immagini TAC. L'esame veramente alterato al tempo zero è l'emogasanalisi, come potete vedere. I dati suggeriscono la presenza sostanzialmente di una ipossemia borderline nel contesto di un'alcalosi respiratoria molto evidente e a voler essere pignoli, quindi a voler correggere per il grado di iperventilazione l'ossemia, in realtà l'ipossemia appunto è molto molto più marcata, quindi teoricamente ci si trova in una condizione di danno d'organo respiratorio, in questo caso marcato. Quindi è ragionevole sospettare una condizione di sepsi a questo punto? Sicuramente un rialzo termico con brivido scuotente lo suggerisce. Una procalcitonina invece negativa a distanza di molte ore dall'esordio febbrile non rafforza questo sospetto. In base invece alle ultime definizioni di sepsi, potremmo invece dire che il sospetto è assolutamente ragionevole anche in ragione di un quick sofa score borderline, sostanzialmente di 2. A questo discorso poi si associa, come dicevamo prima, la domanda se è presente o meno un danno d'organo. Allora il paziente al momento dell'ingresso è emodinamicamente stabile, abbiamo visto che dal punto di vista laboratoristico ha una funzione renale ed epatica conservata, ed è presente invece un'insufficienza respiratoria parziale di tipo 1, probabilmente motivata da una polmonite atipica, forse interstiziale. Il paziente viene ricoverato e viene avviata una terapia sintomatica con paracetamolo e FANS e alle puntate febbrili vengono avviati gli esami culturali. Nelle prime ore di osservazione possiamo vedere che i picchi febbrili sono piuttosto elevati, il paziente è ancora piuttosto rallentato dal punto di vista dell'ideazione, intontito, ma non vi sono problematiche di ossigenazione, quindi sostanzialmente il problema respiratorio sembra in rapida evoluzione favorevole. Non vi sono evoluzioni neanche dal punto di vista laboratoristico per quanto riguarda i biomarkers e la crasi ematica. L'antigene urinario di legionella, opportunamente chiesto sulla base del sospetto radiologico, risulta poi in breve negativo. Nei giorni successivi il movimento febbrile si attenua, il paziente acquisisce sempre maggiore attività e lucidità e giunge poi l'esito degli esami culturali che sono negativi e quindi non rafforzano, escludono, anzi, il sospetto iniziale di una sepsi. Un movimento febbrile così prolungato e di questa entità ci ha fatto pensare ad una diagnosi attuale ma non comune che è quella che in gioco vi fosse sostanzialmente una virosi veicolata da artropodi. Abbiamo inviato opportunamente gli esami al laboratorio di riferimento regionale e dopo qualche giorno, in dimissione per la precisione, la risposta è quella che vedete sulla sinistra, ossia vi è una seropositività per West Nile su sangue e vi è una positività della viremia sulle urine. quindi la diagnosi di dimissione, perché il paziente poi ha recuperato sostanzialmente le condizioni generali precedenti, la diagnosi di dimissione, dicevo, è quella di febbre da West Nile, ossia febbre del Nile occidentale. è una malattia virale da importazione ma questo è un caso autoctono che ha necessitato della sola terapia di supporto, è antidolorifica o antipiuretica, quindi si è autorisolta e a tre settimane peraltro non ha portato a nessuna sequela o a nessuna complicazione in particolare neurologica. sorgono due domande sul finire di questo caso clinico la prima è l'alterazione del sensorio che ha presentato il paziente per quanto lieve va interpretata come screzio encefalitico e l'interessamento polmonare iniziale, interstiziale è realmente correlato alla diagnosi? il caso clinico ci offre l'assist per parlare appunto delle arbovirosi ossia delle malattie virali veicolate da vettori cioè da artropodi che in genere sono zanzare o zecche sono malattie inizialmente endemiche delle aree tropicali e subtropicali ma adesso stanno assumendo il significato di problema emergente di salute pubblica in quanto appunto non sono più patologie da importazione in senso stretto ma iniziano già da diversi anni ad essere registrati casi autoctoni quindi vi è una diffusione comunque a livello mondiale e soprattutto l'attenzione è motivata dal fatto che queste malattie potenzialmente sono causa di patologie e sequele neurologiche importanti specie in categorie a rischio come i pazienti immunocompromessi gli anziani e il feto di seguito vediamo le principali arbovirosi salta all'occhio come il virus West Nile sostanzialmente appartenga alla stessa famiglia e allo stesso genere del virus dengue e del virus zika il ciclo di trasmissione del West Nile virus è piuttosto semplice il virus alberga in ospiti diciamo amplificatori che sono sostanzialmente volatili uccelli il paziente si replica all'interno di questa popolazione quindi il ciclo principale è quello legato alla puntura degli uccelli da parte di zanzare artropodi del genere Culex che infettano e si infettano appunto pungendo volatili gli uomini e il cavallo sono ospiti accidentali ossia quando una zanzara infetta punge un uomo o un cavallo il virus passa senza però raggiungere una viremia tale da mantenere il ciclo all'interno di quella di quell'ospite di quella popolazione di ospiti quindi una zanzara che punge un animale un cavallo o un uomo difficilmente si infetta proprio per la viremia che non è mai particolarmente alta a differenza invece degli ospiti amplificatori che sono gli uccelli il virus West Nile decore sostanzialmente in forma sintomatica per l'80% dei casi nel restante 20% circa si assiste sostanzialmente a quella che viene chiamata febbre del Nilo occidentale è il caso specifico appunto di cui stiamo parlando e consiste in una sindrome febbrile a risoluzione spontanea caratterizzata da stanchezza esauribilità dolori muscolari cefalea e piuttosto comunemente anche da rash cutaneo morbilliforme e da linfadenopatie in genere superficiali in meno dell'1% dei casi l'infezione da West Nile assume i caratteri di malattia neuroinvasiva e questo è il quadro sicuramente più grave colpisce in genere dopo i 60 anni e può esprimersi come meningite encefalite o paralisi flaccida o combinazione dei tre quadri il virus cikungunya è un virus è un altra arbovirosi piuttosto comune anche alle nostre latitudini sostanzialmente caratterizzato da un quadro a specifico febbrile che si distingue sostanzialmente per una poliartrite delle grandi articolazioni nella fase acuta che poi danno poli mio artralgie residui anche per molti mesi a seguire anche qui può esservi un neurotropismo del virus che può essere appunto causa di meningite encefalite e mielo radicolite in fase acuta però molto raramente alla stessa famiglia e allo stesso genere del West Nile appartiene anche il virus dengue che è un arbovirosi endemiche da importazione potremmo dire il paradigma classico in questo caso la sindrome febbrile sempre specifica più caratteristici sono i sintomi gastrointestinali quindi con le complicazioni correlate e il dolore retroorbitario nei casi di riesposizione a sierotipi diversi l'infezione può causare quella che viene definita febbre emorragica sostanzialmente caratterizzata da sanguinamenti ipotensione per alterazione della permeabilità vascolare e trombocitopenia anche in questo caso sono in gioco quadri neurologici di encefalite di miosite o di sindrome di chillian barret un solo accenno sullo zika virus se non altro per la portata epidemiologica che ha avuto negli anni scorsi in questo caso il virus si espande in quanto gli artropodi pungono soggetti infetti si espande nella popolazione umana intendo la rilevanza dei quadri clinici sostanzialmente dei dati epidemiologici riguarda le donne in gravidanza perché la contrazione del virus non si sa bene ancora in quale trimestre di gravidanza però può creare seri problemi al feto sostanzialmente microcefalia per quanto riguarda invece l'infezione nel soggetto normale immunocompetente il quadro è sovrapponibile alle altre arbovirosi in particolare sembra caratteristico oltre alla sindrome febbrile specifica la sintomatologia in termini di congiuntivite la diagnosi la diagnosi delle arbovirosi è potremmo dire estremamente semplice il sospetto diagnostico è innanzitutto clinico ed epidemiologico a confermare il quadro il sospetto appunto è la sieropositività e l'amplificazione genica del genoma virale con polimerase chain reaction sul materiale biologico raccolto quindi liquorecefaloorachidiano urine sangue e saliva come appunto abbiamo fatto nel nostro caso qualche ultima diapositiva per dare un'idea della dimensione del problema allora negli Stati Uniti innanzitutto parliamo di West Nile e negli ultimi decenni è la più frequente causa di encefalite virale epidemica nei casi che vanno dal 1999 al 2015 poco più della metà si è esplicato in maniera paucisintomatica quindi come febbre semplice febbre del nio occidentale all'incirca un 40% invece ha sviluppato come potete vedere una malattia neuroinvasiva e in un 4% dei casi appunto la popolazione interessata è deceduta sulla destra invece abbiamo un'idea della distribuzione della dengue nel mondo sul pianeta possiamo vedere che le aree più interessate quelli con incidenza maggiore quindi con il maggior numero di casi riportati sono l'america latina l'america centrale e l'area del subcontinente indiano e dell'indonesia per quanto riguarda invece Zika virus e Cicungunia il primo dei due è salito agli onori della cronaca un paio di anni fa in occasione delle olimpiadi del Brasile e infatti del 2016 e infatti abbiamo visto che le epidemie nel corso del tempo si sono spostate verso est sino a raggiungere nel 2015 il Brasile e a interessare poi negli anni successivi anche l'America centrale e il Texas i casi invece le epidemie invece di Cicungunia nel mondo interessano sostanzialmente l'area dei Caraibi l'area dell'America centrale e l'area dell'Indocina possiamo notare che ci sono stati dei cluster epidemici anche in Italia soprattutto nella nostra regione in provincia di Ravenna questo già da diversi anni è una condizione nota già da diversi anni qualche dato sul nostro paese e sulla nostra regione come potete vedere i casi confermati di dengue cicungunia e zika virus sono in costante aumento per quanto riguarda la dengue abbiamo avuto un picco sia in Italia che in regione nel 2013 per quanto riguarda il cicungunia il picco risale dal 2014 per quanto riguarda lo zika virus il picco è molto più recente appunto risale al 2016 per quanto riguarda invece il West Nile che è sostanzialmente l'arbo virosi che ci interessa più da vicino se non altro per il caso clinico di cui stiamo parlando possiamo vedere che i casi di malattia neuroinvasiva nel corso degli anni sono aumentati drasticamente e in questo la regione Emilia Romagna ahimè la fa da padrone con rispetto al resto d'Italia diciamo enumera il maggior numero di casi quindi gli ultimi messaggi prima di lasciarci le arbo virosi sono malattie delle regioni tropicali e subtropicali che però adesso hanno assunto una diffusione mondiale i dati epidemiologici ormai sono rilevanti nel corso degli anni vi sono state diverse epidemie locali e non fondamentale sottolineare che i casi si concentrano nel periodo estivo autunnale e i piani di sorveglianza dei servizi sanitari regionali riguardano in genere questo periodo dell'anno la diagnosi differenziale avviene con le comuni virosi ma la sintomatologia in genere è molto più importante molto più pesante e prolungata con se quelle che possono durare anche mesi vi possono essere complicanze neurologiche gravi e fatali in aree e categorie a rischio come abbiamo visto non esistono però terapie specifiche né vaccini le sindrome febbrili sono in genere a risoluzione spontanea fondamentale è la prevenzione ossia incidendo sul ciclo di trasmissione del virus bisogna effettuare un'adeguata lotta al vettore cioè agli artropodi zanzara tigre per esempio una prevenzione delle punture una sorveglianza veterinaria e sanitaria degli ospiti e per quanto riguarda i casi umani anche nell'ottica della donazione del sangue e di organi l'ultimo punto chiave con cui si chiude questa presentazione è che per quanto banale qualsiasi diagnosi va sospettata solo se la si conosce quindi chi conosce trova grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti